Vuoi vedere che cosa è arrivato? Yuki A6 Sensitive Plus, la versione Italy. Ed eccola qui la Saiko A6 Plus, versione Italy. Bellissima, vetta ibrida sensibilissima, gli anelli sono Fuji con tripla legatura e quella centrale è verde metallizzata che ripende il colore della canna, originali Fuji. Anche la placca portamulinello è a vite del modello Fuji originale, l'impugnatura in fondo ergonomica antiscivolo e questa è la canna, bellissima, 4 metri e 50 con azione 100-250 grammi, Yuki Saiko A6 Plus.